Le pellicerie Gregoris vi consentono di realizzare subito il vostro sogno. Questa volpa argentata per esempio costa solo 3 milioni 980 mila. Sono tutti modelli bellissimi. Pellicerie, leggere, morbide, favolose. Anche se a prezzi incredibili, ve lo garantisce Silva Coscina. Pellicerie Gregoris. Roma Largo Chigi 4-5 e Milano, Palermo, Catania.